E sarebbe stata ritrovata questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria di Pescara la panda grigia di Diego Morabito, il giovane di Ripatiatina, di cui da domenica sera non si hanno più notizie. A segnalare l'auto direttamente al sindaco di Ripatiatina, il quale ha immediatamente contattato i carabinieri, è stata una ragazza che ha riconosciuto l'auto e la targa associandola al giovane. E il sindaco di Ripatiatina, Roberto Luciani, peraltro amico della famiglia del giovane scomparso, ha confermare anche alla nostra redazione web, che lo ha raggiunto telefonicamente, che una segnalazione attendibile avrebbe localizzato Diego Acchieti Scalo. Il comune di Ripatiatina lancia dunque l'invito a chiunque l'avesse incontrato di rivolgersi alle forze dell'ordine. L'ultima volta che è stato visto il giovane indossava una giacca marrone, dei pantaloni grigi e delle scarpe da tennis nere. Nel pomeriggio di domenica ha riaccompagnato la figlia a casa e ha fatto perdere le sue tracce. Il giovane aveva con sé il suo cellulare e l'ultimo contatto rilevato dai carabinieri risulta agganciato a una cellula di Pescara. Denunciata la sua scomparsa sono stati numerosi messaggi rivolti anche sui social per invitare chiunque a dare notizia di un suo eventuale avvistamento.